Stop al consumo di suolo. Questo è il tema del convegno che si svolgerà qui a Roma, al Tempio di Adriano, il 24 ottobre. A questo convegno si parlerà di suolo, di consumo di suolo, che cos'è il suolo e perché dire stop al consumo di suolo. Perché c'è il suolo agricolo che viene comunque distrutto dall'invasione urbana e c'è un tessuto urbano che viene distrutto perché non viene recuperato. A questo convegno, dopo una parte introduttiva dove si affronteranno in maniera generica e anche specifica questi temi per far capire a tutti quanto è importante preservare il suolo perché è sul suolo che noi viviamo, ci sarà anche una seconda parte dove tutte le forze politiche, Movimento 5 Stelle, Scelta Civica, PD e SEL parleranno delle loro proposte di legge. Proprio perché noi vogliamo fare informazione e far sapere ai cittadini quello che avviene in Parlamento per poi andare a decidere nella direzione più giusta, senza pregiudizi e senza lobby che ci dicono cosa fare. Vi prego partecipate. 24 ottobre, Tempio di Adriano, ore 15. Grazie.